Qui Radio Londra, Aldo dice 26 per 1. Bisogna portare anche le belle notizie quando ci sono. Servono a rinvigorire gli animi e darci quella forza, quella costanza, quella determinazione che è all'acqua quando scorre. Ricordate, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, l'applicazione Immuni? Avete presente come hanno martellato, martellato, martellato la popolazione a reti unificate televisive, a reti unificate radiofoniche, con i social, con i web e con la presenza di questa applicazione nel Play Store di ogni vostro cellulare o computer fisso? Ora io stamani dovevo aggiornarmi nelle mie applicazioni e andando su Play Store non la vedo, di solito era lì per prima, in agguato, ad aspettarmi, impossibile da cancellare, te la dovevi proprio vedere, te la dovevi vedere tutti i giorni. Per trovarla ho dovuto scorrere, 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 finché non arrivo al capoverso notifiche di esposizione al Covid, bene bene. E vado a vedermi un attimo, appunto, le valutazioni. Qui c'è scritto Immuni, Ministero della Salute, eh? Ah, con i nostri soldi ci siamo pagati sta triturata di palle. Ebbene, la valutazione è 2,5. Praticamente spazzatura. Oh, ma è una notizia bellissima. Guardate, noi sottovalutiamo la nostra forza. Loro sono armati fino ai denti. Un po' come Golia, davvero. Spada, scudo, carro con le lame laterali, frusta. Tutto è grande, è grosso, è gigantesco. Questi hanno tutto e per giunta questo tutto che hanno sono i soldi nostri. Sono i soldi delle tasse che paga l'operaio lavorando. Ebbene, nonostante tutta la loro potenza di fuoco, noi miseri Davide, con questi quattro sassolini che possiamo tirare ogni tanto con la fionda, ci siamo riusciti. Vittoria! L'applicazione Immuni è un fallimento. Caro Ministro Speranza, hai fallito. Avete raccontato che coloro che l'hanno scaricata sono 10 milioni. Ah sì? Allora vuole dire che il vostro fallimento con l'applicazione Immuni è sigillato da 10 milioni di installazioni. 2! 2,5 è la valutazione. Rumenta! Roba da buttare via! Non la vogliamo, Ministro! Te la sei messa nella capoccia! Credo di sì, perché le giocchiando qua e là mi è parso di capire che in un eventuale rimpasto di governo le prime teste che saltano e sono proprio quelli della Ministra, che non mi ricordo più come si chiama, che avrebbe dovuto occuparsi di far avere ai muni il successo che loro volevano. Sul cesso! l'abbiamo messa in muni e abbiamo tirato la catena! Quindi, su! Su con la vita! Eh? Cerchiamo di valutarci con più obiettività, senza dare per scontato che noi siamo i perdenti, perché è il pensiero che crea la realtà, non la realtà che crea il pensiero, come diceva saggio Giordano Bruno, è il pensiero che crea la realtà. i nostri pensieri non devono necessariamente essere pessimisti e dobbiamo avere una visione di noi stessi come perdenti, perché creeremo la realtà perdente, la nostra visione, la visione di noi stessi deve essere di vincenti, dobbiamo osare credere nella vittoria e vinceremo! Abbiamo vinto sulla applicazione immuni! Udite, udite! Gaudium Magnum applicazione immuni! Caput! Qui Radio Londra Aldo dice 26 per 1 Grazie a tutti!